E ora parliamo dell'emergenza da Covid-19, raccontando quello che è accaduto nelle ultime ore, non soltanto per quanto riguarda l'andamento della curva dei contagi che in Puglia sembra stabilizzarsi e sembra finalmente abbassarsi. Infatti sono state emesse delle ordinanze dal Presidente della Regione Puglia che un po' allentano le restrizioni. Intanto il Governo, dopo lo scontro con la Conferenza Episcopale Italiana, sta avvaliando l'opportunità di far celebrare messa a partire dal prossimo 11 maggio. Il servizio. Con ogni probabilità ci sarà la possibilità di celebrare le messe. Il pasticcio diplomatico tra Palazzo Chigi e la Conferenza Episcopale Italiana arriva a conclusione con un rirraggiungimento di una sorta di compromesso che parrebbe accontentare le parti. Celebrazioni liturgiche a partire dall'11 maggio ma all'aperto ed è in corso di valutazione il varo di misure stringenti per evitare il contagio come l'obbligatorietà per le parrocchie di controllare le distanze tra i fedeli o se lasciate scivolare nelle mani dei credenti no alle acquasantiere piene e no allo scambio del segno di pace. Tutto, come sempre, dipende dall'andamento della curva epidemiologica e dal fattore di rischio contagio che in Puglia, stando ai dati diffusi ieri, resta basso. La percentuale di nuovi positivi sui 1.520 test effettuati per accertare l'infezione da Covid-19 è infatti pari all'1,47% del totale. Si tratta di 22 nuovi contagi, la maggior parte dei quali risiede in provincia di Foggia, dove si sono registrati 15 nuovi casi. Nessuna nuova positività è stata segnalata nelle province di Bari, Brindisi e Taranto. Nel bollettino epidemiologico diffuso dalla regione ci sono anche due decessi nella provincia di Bari. I guariti sono complessivamente 654 contro i 407 deceduti. Dei quasi 3.000 positivi, il 40% è asintomatico, il 78% in isolamento domiciliare, l'età media dei contagiati di 58 anni, mentre solo il 29% ha più di 70 anni. E sono gli over 65 i soggetti più fragili, che anche in Puglia sono stati al centro dell'attenzione non solo della task force regionale, ma anche di magistratura e Ministero della Salute, perché ieri gli ispettori ministeriali hanno, da remoto, compiuto controlli nella RSA La Fontanella di Soleto, in provincia di Lecce. A renderlo noto è la ASL Salentina, che dallo scorso 25 marzo gestisce la struttura in cui si trovano ancora 19 anziani, tutti negativi al Covid. Nel corso della videoconferenza, a cui hanno partecipato l'ufficio regionale che coordina le attività per le strutture sociosanitarie, la direzione generale della ASL, gli operatori sanitari della RSA e i carabinieri del NAS, sono state analizzate tutte le attività svolte nella struttura e nei presidi ospedalieri e aziendali dove sono stati trasferiti i pazienti. 90 gli anziani ospitati nella RSA e contagiati, 17 i deceduti. Intanto sarà obbligatorio coprire naso e bocca con le mascherine e rispettare la distanza interpersonale di un metro su bus e treni e quanto prevede un'ordinanza relativa al trasporto pubblico urbano ed extraurbano su gomme e ferro emanata dal presidente della regione Michele Emiliano. Il provvedimento, che entra in vigore il prossimo 4 maggio e resterà valido fino al 17 maggio, prevede la sospensione di tutti i servizi scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi e la rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate. Vengono dimezzati i servizi ordinari feriali nelle fasce orarie a minore domanda, ovvero dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, incrementando, se necessario, il numero dei mezzi e delle corse necessari a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno un metro. I collegamenti ferroviari, invece, subiranno una contrazione di massimo il 60% a partire dalle fasce orarie di minore domanda, ma la riprogrammazione dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di costante monitoraggio.